Chi è? Ancora Zio Svalda, non... Eccolo qua. Pronto? Pronto Zio Svalda? Pronto! Piero, my love, I love you, I meet you... Pronto, c'è uno che tenta di parlare inglese! I speak English because I study in Honduras! Sì, vengo, sto arrivando, devo portare qualcosa? Ma dove sei? Ti sei perso? Sono quasi in taxi, arrivo! Ah, sta arrivando? Allora io verrò ad aprirsi fra pochi minuti, ok? Va bene! L'aspetto come sono felice di vederti, Piero! Ci vediamo tra poco! Hai, darling! Un bacione! Mamma, arriva Piero Chiampretti adesso, ragazzi, io mi devo preparare! Chi è? Sorellina? Sono io, Piero C! Ma sei arrivato in anticipo, ma che meraviglia! Apri maledizione, che il tempo è denaro! Arrivo! Che il tempo è denaro! Che il tempo è denaro! Mi ha amato e chebrò! Vivo del sì! Ma che meraviglia, come sono felice! Anche emozionato, ragazzi! No! No! Non posso credere! Neanch'io! Io non credo! Io non credo, ma io di più! Ma che bello vedere! Sei tale quale a quello vero! A quello vero! Cosa abbracciarmi! Stai benissimo! Ma che sei veramente a casa tua? Sì, guarda che meraviglia! Che bella che è! Ma qui sei agli arresti domiciliari! Sì, guarda che sono gli arresti domiciliari! E chi si muove di qua? Di là ci sono i cavalli, ci sono le mucche, ci sono tutti gli animali! So che a te piace molto il toro! Sì, è vero! Perché il rosso è il tuo colore! Sì, è il mio colore preferito, però il terrore è tenere un toro lì! No, un toro! Perché non appena mi vede quello lì mi... Ti salta addosso! Senti, Piero, che fetto ti fa? Prego, accomodi, Piero! Dopo vediamo la casa! Sì, la casa, ma perché dopo devo fare delle grandi sorprese! Me le fai? Eh, amore, ti faccio tutte le sorprese del mondo! Ti posso dire che sono felice di essere qua? Sai che io non vado mai nei programmi! Infatti, io fra l'altro volevo dire una cosa molto importante, volevo ringraziare naturalmente il nostro amico per Silvio Berlusconi che ti ha lasciato la possibilità di venire qua perché lui non ti è mandato da nessuna parte, mi tiene legato e io devo veramente ringraziarlo! No, ma io sai cosa gli ho detto? Io gli ho detto, guarda, ci voglio andare perché tu sei mia sorella e abbiamo avuto un lungo percorso televisivo insieme!